Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. A tu per tu con i protagonisti della musica, dell'attualità, del sociale. Per i trovati a tutti i telespettatori di Birichina TV, a detto tra noi, e come promesso vi ho riportato Mal. Ciao Mal, ben ritrovato. Per la terza volta. Per la terza volta. Sì, una terza intervista. Mi fai soffrire ancora. Speriamo che le domande siano meno impegnative adesso. Guarda, andremo a parlare un po' dei tuoi successi. Che non ce n'è solo uno, è questo il problema. Cioè, è ovvio che siano impegnativi, perché ne hai avuti tanti. Sì, non posso lamentare, ecco. Ho scoperto anche che ci sono anche dei dischi d'oro. Sì, sì, c'ho quattro dischi d'oro. C'è anche un premio prestigioso. Ma tante. Sì, tanti premio prestigiosi, ma ce n'è uno che io mi ricordo quando ero piccolo, che era un premio prestigioso. Adesso non fanno più questa edizione, ma ne parleremo tra poco. Tra poco. Allora, comincio a sparare, allora. Allora, parliamo dal tuo primo successo. Il mio primo successo è stato con i Primitives, la canzone di Ye. Ye è stata la canzone che ha iniziato la mia carriera in Italia. Parole di Luigi Tenko. Le canzoni erano canzoni americane, perché il 90% dei dischi di successo in Italia negli anni 60, erano canzoni cover, di canzoni di successo internazionale. Tutti, ma non tanti, il pubblico non sapeva niente, pensavano che erano canzoni originali italiane. Però perché all'epoca non esisteva, naturalmente il computer, nessuno sapeva cosa succedeva all'altra parte dell'oceano. Cioè, oggi basta con un clic, lo sai esattamente. Scopre. Esatto, tutto di tutto. Per l'epoca i dischi arrivavano in Italia, però il disco grafico non faceva la distribuzione dell'originale. Faceva un cover del loro beniamino e faceva uscire il disco in italiano, come parecchie delle mie. Ye, il mio primo disco, è stato un cover di una canzone americana, di un gruppo che si chiamavano Young Rascals, che si chiamava I ain't going to eat my heart out anymore. Ok, questa è difficile da pronunciare per me, hai avuto una pronuncia perfetta. Figura di un italiano come per me, che in italiano è diventato i tuoi occhi sono fari abbagliati ed io ci sono davanti, era ancora più difficile. Ancora più difficile, però è la prima frase della canzone, se non sbaglio, giusto? Sì, è stato un grande successo, grazie a queste canzoni, grazie a Luigi Tenco che ha scritto le parole, e Sergio Bardotti è il grande parolieri e arrangiatore, questa canzone è arrivata in classifica e mi ha convinto di restare in Italia, perché il mio primo contratto in Italia era per un mese, solo un mese al Piper Club e poi dopo dovevo tornare in Inghilterra. Il successo è stato spaventoso con il pubblico, il disco è andato in classifica e io ho fatto tanti spettacoli in giro, ho vinto pure un festival, un festival molto sconosciuto lì a Riccia. Ma non è tanto sconosciuto il festival di Riccia, sai? Sì, organizzato da Teddy Reno e Rita Pavone, perché erano il loro paese. Ho vinto questo con Yeah, questa canzone, e allora lì, a quel punto là, la mia carriera ha cominciato, ho cominciato a dire, va bene, facciamo un secondo disco che si chiamava L'incidente, una canzone che si chiamava Solfinger, un strumentale americano, che è suonato solo con il sassofono, non c'erano parole. Mogol ha fatto parole e io sono entrato in classifica anche con il mio secondo disco L'incidente, però ho avuto meno successo di Yeah, allora forse molte persone non lo sanno che esiste quella canzone. L'incidente 1967? Più o meno, sì, 67, sì, perché ieri del 66-67, poi dopo ho fatto questo l'incidente, che faceva parte di un LP, all'epoca si usavano i LP, non CD, l'LP, è venile, e l'LP si chiamava Blow Up, che conteneva tutte le canzoni di mio repertorio che cantavo del vivo sul palco del Piper Club. Bardotti mi è venuto a vedere il Piper Club, ha scelto tutte le canzoni di mio repertorio, le ho fatte alcune in italiano e alcune sono rimaste proprio in inglese, come canzoni tipo, non so, Give Me Some Loving, in quella famosa canzone di Spencer Davis, che io cantavo, è rimasto anche in inglese, perché lui non ha fatto le traduzioni. Comunque, Yeah, i tuoi occhi sono farvi e abbeleanti, è stato il mio primo disco. Allora, uso il tuo accento, i tuoi occhi sono farvi e abbeleanti, ce li andiamo a vedere adesso. È obbligatorio? Sì, è obbligatorio, è obbligatorio, perché su Birichina TV questo è un video che viene molto apprezzato, te lo posso assicurare. Era molto magro, non sembra neanche a me. E allora, Yeah con Mal. Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Detto tra noi. Yeah con Mal dei Primitives. Allora, io ho una domanda che arriva ormai dalla prima intervista che ti ho fatto. Qual è il tuo vero nome? Perché Mal è il nome d'arte. Il tuo vero nome qual è? Paul, Paul come McCartney, Paul Bradley Colling. Perché hai scelto il nome Mal? Questa è una bella domanda. Da dove? Questa è una bella domanda. È anche difficile ricordarmi bene. Comunque, penso che io, quando ho cominciato a cantare, la prima volta che metto piedi sul palco, era una moda di trovare un nome d'arte. Molti cantanti anche in Italia hanno questi nomi d'arte. Io avevo negli anni Sessanta un amico, un cugino in Galles, perché sono gallesi, che si chiamava Malcom. Malcom. Come Malcom, è un nome molto diffuso in Inghilterra, come Malcom X, Malcom, è molto famoso il nome Malcom. E lui suonava il basso. Suonava il basso in un band. Lui era più grande di me di qualche anno. Addirittura, lui suonava con un blues quartet. E era il gruppo che apriva il spettacolo dei Beatles in tournei. Era il gruppo che riscaldava il pubblico per i Beatles prima di andare sul palco. Addirittura, mio cugino Malcom, quando questo tournei dei Beatles passava dal paese mio, mi ha invitato backstage, dietro al palco, di incontrare con i Beatles. Ce l'avevo all'epoca le foto, le autografie, perché quando vivevo ancora in Inghilterra. Adesso la mia casa in Inghilterra è stata venduta, tutti i miei vecchi ricordi sono stati persi in qualche parte. Però io l'ho conosciuto i Beatles molto bene all'epoca, grazie a mio cugino Malcom. Allora, quando ho cominciato a cantare, ho detto, guardavo il mio cugino che suonava con i Beatles, ho detto, ruba un pezzettino di suo nome. Lui si chiamava Malcom e io ho rubato Mal. E poi dopo ho voluto anche inventare un cognome. mi chiamavo Raida, Rida, R-Ipsilon. Questo sono sincero, non lo sapevo. No, esatto, mi chiamavo Mal Raida. Però quando sono arrivato in Italia, il manager Crocetta ha detto, Raida, no, si pronuncia Rida, Mal che ride, fa ridere, no, lascia perdere, tu sei Mal dei Primitives, perché il band che suonava con cui io facevo parte si chiamavano i Primitives, allora ero Mal dei Primitives. Perché? Cioè, tu comunque con i Primitives hai cantato fino agli anni 70, in grosso modo. Sì, metà degli anni 60, verso la fine degli anni 60. Perché poi hai preferito mantenere il dei Primitives? Cioè, comunque hai fatto tanti pezzi da singolo. Non dipendeva da me, cioè, io ero contento di Mal Raida, è un Mal, però soltanto per sapere di chi parlava, Mal dei Primitives, perché poi Mal è diventato un po', faceva un po' ridere, Mal di testa, Mal di pancia, Mal di... Allora ero pieno di battutacce, e così... Allora, Mal dei Primitives, si capiva chi era Mal dei Primitives. Però quando si parla di Mal, si sa di chi stiamo parlando. Sì, sì, ma adesso sì, perché ormai, però all'epoca... Chi è Mal, Mal, cosa è Mal di testa, Mal di... No, è quello di Primitives, ah, Mal dei Primitives, ecco, allora mi è rimasto con Mal dei Primitives. Allora, io direi che, visto che hai conosciuto i Beatles, Yes. Andiamo a vederci un video dei Beatles. Perché no? Mi fa piacere. Su Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Detto tra noi! Ti è piaciuto Twist and Shout dei Beatles? Mi cantavo anche io Twist and Shout dei Beatles, iniziavo come me, anzi, siamo sempre i coetanei. All'epoca tutti i gruppi, tutti i band inglesi, facevano cover delle canzoni americane. Twist and Shout è una canzone di Isley Brothers che cantava in America. I Beatles hanno fatto una versione, perché tutte le canzoni dei Beatles, anche di Rolling Stones, erano sempre canzoni americane che loro facevano. Poi dopo, ovviamente, cominciamo a fare le proprie canzoni, scrivevano le proprie canzoni, però il repertorio di noi band inglesi erano tutte canzoni americane dei Chuck Berry, Little Richard, Fitz Domino, Jerry Lee Lewis, Elvis, erano tutte queste canzoni lì che cantavamo nel nostro repertorio del vivo. E poi ognuno faceva i propri pezzi, però all'inizio abbiamo cominciato così. Mal, tu non sei solo un cantante, perché nella tua carriera sei stato anche attore, sei stato anche a teatro, però questa è un'altra parentesi, un'altra piccola parentesi che andremmo ad aprire. Come attore, quando è stata la tua prima volta che sei stato davanti alla macchina da presa? Beh, macchina da presa, ogni volta che faccio la televisione c'è sempre una macchina da presa, però io, quando negli anni 60 un disco faceva successo, non solo mio, qualunque dei miei colleghi facevano successo, facevano subito un musicorelle, un film, prendevano il titolo delle canzoni di successo e scrivevano una storiella intorno alle parole delle canzoni e facevano un film e l'interprete delle canzoni diventato, automaticamente, si trasformava in attore. Tutti i miei colleghi l'hanno fatto, tutti. Io non ero di meno, l'ho fatto con le canzoni Pensiero d'Amore, che è stato il mio primo film, che hanno fatto proprio un testo simpaticissimo, una storiella di un lord inglese, non so perché pensavano che ero forse un lord inglese. Perché un lord inglese? Ah vabbè, questo no, però io ero un lord inglese che ha scappato dall'Inghilterra per venire in vacanza in Italia e allora ho incontrato una ragazzina, Silvia Denisio, non so dove che finiva fatto Silvia, perché non ho più sentito che forse si è ritirato, non fa più film, non fa più qualcosa. Comunque saluto a Silvia, se c'è ancora chi può vedere quella nostra intervista, saluto con molta piacere perché è stato un momento bellissimo e abbiamo fatto bellissimi film insieme. Questo pensiero d'amore è stato un successo che è spaventoso. Io ce l'ho detto le lettere dei ragazzi che l'hanno stato a vederlo due, tre, quattro, anche cinque volte a vedere il film, che andavo sempre a vederlo. È uscito in seconda visione il film, però ha incassato più di un film di prima visione, perché le gente andavano, c'erano le file fuori dei ragazzini per vedere questi film. E io devo ringraziare anche un grande doppiatore, che non mi ricordo il nome per adesso, che ha doppiato mia voce. Ringraziamo il doppiatore, punto. Ringraziamo il doppiatore. perché se io parlavo in questi film come sto parlando adesso, non erano un film serio d'amore, diventavano un film comico. No, ma comunque poteva essere l'idea del lord inglese che veniva a trovarti. Comunque questo primo film, Pensiero d'amore, era preso dal disco Pensiero d'amore di successo. Poi ho fatto un secondo film, Lacrime d'amore, che era la prima volta che, come il successo di Pensiero d'amore è stato talmente tanto che gli autori hanno scritto una storia che continuava. Allora, era come fosse due puntate. La storia di Pensiero d'amore continuava. Nella seconda, perché mi sembra alla fine del Pensiero d'amore mi sono sposato con il protagonista Silvio Denisio e nel secondo film abbiamo fatto le litigate, eccetera. C'erano gli attori importanti, Pippo Franco, c'era Francesco Moulet, c'era anche Lino Banfi, c'erano tutti i miei film. Ho un altro, poi dopo questo film, Lacrime d'amore, ho fatto un altro che sembrava Amore Formula 2 che ho girato con Giacomo Agostini, il mitico pilota di motociclette, il più grande di tutti i tempi. mi spiace per Rossi, però Giacomo per me era il numero uno. Poi dopo ho fatto altre partecipazioni in altri film, eccetera. La mia carriera come attore è finita lì, dopo 3-4 film, era il momento magico dei film che si chiamavano i musicarelli. Adesso chiamano i film panettoni, non lo so. Il cine panettone, cioè. Sì, però negli anni 60 erano i musicarelli e ancora oggi si vedono dappertutto, dappertutto basta che accendete la televisione alle 4 la mattina o qualche parte, passano sempre queste musicarelli. Molto bene, allora io direi che possiamo andare a vedere il tuo pezzo Pensiero d'amore. Ok. Con Pensiero d'amore hai avuto l'apice, sei stato attore, insomma, hai avuto un continuato, poi dopo Pensiero d'amore hai avuto lacrime d'amore. Come hai raccontato nella scorsa intervista, sei andato in America, hai girato l'America Las Vegas, hai avuto l'onore di cantare nello stesso posto di Elvis Presley? Eh sì, Elton Hotel di Las Vegas. Elton Hotel, cioè, non è da tutti, non è da tutti. Poi come sei tornato qui in Italia? Perché comunque ricordo che sulla puntata dedicata a Sanremo hai parlato dei nomadi che comunque hai cantato con loro ma lì è iniziato un po' il tuo declino. Ma com'è che sei tornato su? Sì, perché dopo questo c'era un po' di crisi perché all'inizio degli anni 70 c'è stato un cambiamento e naturalmente i giovani hanno cominciato ad avere altri gusti è arrivata un'ondata di cantautori i cantautori che non davano più le loro canzoni ogni cantante ognuno autore voleva cantare le proprie canzoni noi interpreti come me Morandi Ranieri e compagni cioè ognuno ha cominciato ad avere un po' di sbilanciamenti nella carriera e arrivando questi cantautori tutti i giovani seguivano questi perché avevano un'altra mentalità loro avevano le pretese politiche nelle canzoni e cioè era un altro genere allora ecco perché io mi sono andato un po' fuori d'Italia a lavorare ho cantato anche in Germania questo non ti ho detto prima ho fatto un LP e due 45 giri in tedesco cantando anche in tedesco hai cantato anche in tedesco e lì hai riscosso problemi? hai avuto problemi a cantare in tedesco? ah tanto peggio di quello in italiano diciamo che l'italiano è una lingua parecchio difficile però il tedesco insomma no no cioè io lo scrivevo le parole come suonava cioè loro mi dicevano parole io scrivevo la stessa parola però come lo avrò pronunciato in inglese non so se mi sono spiegato sì 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 ho capito tu scrivevi direttamente la pronuncia un po' come facciamo noi italiani con l'inglese che andiamo a scriverci sopra direttamente allora ho fatto ho fatto comunque questi dischi ho fatto televisione in Germania ho avuto anche grosso successo in Germania facendo sono stato con Morandi in Germania anche lui che era con l'ericia come ha detto prima noi interpreti anche lui è stato mandato a fare i dischi in Germania sono stato all'altra parte del muro quando c'era il muro lì c'era un guida tedesco che ci ha fatto passare l'altra parte del muro di Berlino prima quando eravamo lì a fare le televisioni ci abbiamo visto l'altra parte come era mamma mia mamma mia che ricordi brutti comunque non è una cosa da raccontare in questa questa intervista dove eravamo sì ho avuto questo ritorno grazie a 1975 ma non voglio dire grazie perché alla fine degli anni dell'anno 74 se mi ricordo bene purtroppo è morto un grande regista attore italiano Vittorio De Sica la RAI in onore di Vittorio mandava in onda una decina di film di De Sica e serviva una sigla De Sica nel 1932 o 1933 in uno dei suoi film Uomini che Mascalzone se mi ricordo bene non è che mi ricordo perché c'ero ma mi ricordo che mi hanno raccontato e cantavo questa bellissima canzone che ha girato il mondo cantata da tanti altri cantanti internazionali anche in inglese in francese che si chiamava Parlomi d'amore Mario e serviva una sigla per lanciare queste dieci film in onore di Vittorio e io mi sono trovato al posto giusto al momento giusto hanno affidato a me l'onore di cantare Parlomi d'amore Mario a modo mio e boom è stata un'esplosione dopo due o tre anni di crisi che ho avuto in Italia che è un momentaccio e ho tornato al primo posto in classifica vendendo un milione di dischi con Parlomi d'amore Mario e questo sicuramente è stato un disco d'oro esatto e oltre a questo che altri dischi d'oro hai avuto? beh Pensiero d'amore che ho nominato anche prima perché però c'era anche l'altra che mi sembra che non voglio sbagliare Occhi neri Occhi neri una canzone molto particolare perché in 1970 ho partecipato non soltanto a Sanremo ma anche a Canzonissima un'altra gara sai in Italia ormai tutte le trasmissioni televisive sono gare musicali dove il pubblico è invitato a votare tramite le telefonate tramite qualcosa o cattoline eccetera all'epoca cattoline naturalmente e in Canzonissima ho cantato Pensiero d'amore Pensiero d'amore è passato il turno perché il pubblico a casa mi ha votato con le cattoline spedendo alla RAI e ho passato il turno passando il turno volevo dire che io tornavo dopo un paio di settimane di nuovo alla stessa trasmissione a cantare una seconda canzone io non ero pronto neanche il mio discorafico non credendo che la RAI mi avrà fatto l'onore di tornare a cantare un'altra volta sai come lì e come sono le cose comunque no non vorrei dire che però sai con le cattoline quando telefonate forse c'è un modo per controllare però cattoline è un altro discorso cattoline un altro discorso allora comunque sono passato il turno ero disparato di trovare un'altra canzone per fortuna la mia discorafica conoscevo un cantautore molto molto bravo che è Umberto Balsomo Umberto è stato incaricato di scrivermi una canzone è venuto fuori con questi occhi neri occhi neri una bellissima canzone molto molto particolare che lui ha scritto proprio per me e io l'ho presentato di nuovo per la seconda volta a canzonissima purtroppo questa volta le cattoline hanno sbagliato il conto e io sono stato eliminato però la canzone anche se è stato eliminato ha venduto più copie di quelle che ha vinto quell'anno lì a San Re a canzonissima hanno arrivato a prendere un altro disco d'oro di un altro milione di dischi vendute questa è la storia non saresti l'unico caso perché ce ne sono stati veramente tanti che in qualche concorso non hanno vinto ma nelle classifiche le classifiche generali parlano in un altro modo sì 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 ma è sempre così cioè il disco in un secondo tempo quando la gente si ascoltano due o tre volte cambiano le loro preferenze abbiamo i casi di Sanremo non quelli di quest'anno comunque il vincitore non quadra mai quello che viene la richiesta in radio esatto normalmente è così bene allora adesso andiamo ad ascoltarci invece un pezzo dei Pink Floyd perché no su Birichina TV detto tra noi l'intervista del giorno detto tra noi another break in the world dei Pink Floyd Mal abbiamo parlato dei dei tuoi grandi successi di premi vinti soprattutto qual è il il disco o il brano che ti ha fatto vincere di più in assoluto questo non è facile secondo me è facile no perché non volevo nominarlo ecco tutto qua va bene io devo dire la verità 1977 il disco di Furia che ha venduto più di due milioni di dischi però ce l'ho solo un disco d'oro ho preso un premio ecco ho preso anche il gatta il telegatto il telegatto di tv sorrisi e canzone con il mitico Furia il telegatto io me lo ricordo io me lo ricordo di averlo visto in televisione era piccolino ed era l'evento era l'evento dell'anno cioè tra gli eventi dell'anno c'era Sanremo e il telegatto e il telegatto gli è vincita tu sei quello che è arrivato con la macchina con l'autista ti hanno aperto la porta o sei entrato normalmente no è entrato normalmente adesso lo fanno adesso lo fanno in grande cioè le cose come la trasmissione del telegatto è diventato proprio storico allora lo fanno colorarlo molto di più con le macchine eccetera però all'epoca uno si trovava lì entrava e prendeva il premio io quell'anno lì ho preso c'era anche Costanzo che ha vinto quell'anno lì con me il telegatto è stato stato veramente un onore per me e invece tra i tuoi brani qual è quello che preferisci più e quello che porti più a cuore beh è logico che il prima canzone il primo disco penso a Ye il primo bambino sai amo il primo disco è quello più secondo me è quello più importante per me perché lì è partito tutto quanto con quel disco di Ye se non c'era il disco di Ye forse non sarò qui oggi devo ringraziare Bardotti Tenko Crocetta del Piper Club devo ringraziare tutti grazie a queste canzoni di Ye che io sono ancora qui oggi a soffrire parlando con te come a soffrire sono delle interviste che adesso Mal sta scherzando però tra una canzone e l'altra ridiamo tantissimo perché Mal è veramente una persona spassosa assolutamente posso confermarlo grazie grazie sei un amico grazie non invitarmi più però guarda ti svelo questo una cosa una cosa mia personale ero piccolo avevo dei 4 ai 6 anni e sono venuto a vedere un tuo concerto su serio volevo il tuo autografo la mia mamma era disperata io ci ho mandato qua a paesi scommettata ma che no non mi hai mandato quel paese la mamma mi ha dato uno scontrino del supermercato io sono venuto lì a farmi firmare lo scontrino e tu Mal mi hai firmato lo scontrino ho pagato io lo scontrino la mamma lo ha nascosto talmente bene che non lo troviamo più però mi sono fatto firmare uno scontrino da te e come se non bastasse nel 2016 tu eri in piazza con Birichina e Belle Monella durante i fuochi dell'ultimo dell'anno il sottoscritto è venuto dietro ti ho detto Mal ti prego facciamo una foto sono un tuo fan e io ho avuto l'onore di intervistare Mal grazie Davide mi ha fatto molto molto piacere veramente bene allora faremo manco un altro intervisto allora andremo avanti a intervistare Mal allora adesso no perché ce l'ho tante cose ancora da raccontare cioè una carriera che è durata 55 anni lo sai che sono dal 66 adesso 56 anni quest'anno 56 anni di carriera c'è una tante cose da raccontare e non mi sono fermo qui non abbiamo neanche accennato il fatto che ho fatto un reality sono stato in Brasile con Eva Heng e per tre mesi in un reality la fatteria che sono rimasto lì e sono arrivato secondo ho vinto Raffaele Tonon quell'anno però io sono arrivato secondo quell'anno lì perché sono rimasto in tre alla fine io sono arrivato secondo e poi Lorella Cuccarini in teatro ho fatto tre anni di teatro con Lorella Cuccarini e Giampiero in Grazia abbiamo fatto ho fatto delle cose molto belle però questo possiamo aspettare un'altra puntata parliamo del mal non cantante parliamo del mal non cantante secondo me potrebbe essere interessante cioè dove ci racconti la trama dei film che hai fatto ci racconti del teatro Gris vi dico questo sì sì Gris non avevo detto Gris no non avevi detto Gris è Gris con Lorella Cuccarini abbiamo fatto tre anni tre anni bellissimi bellissime sai chi c'era nel cast di Gris no Amadeus Amadeus che siamo abbiamo diviso il camerino insieme sì perché sai i teatri cioè eravamo tanti il cast e io ero in camerino con lui e quando ho chiesto ho detto senti mi porti a Sanremo lui non si ricorda che neanche sono un grande amico con Amadeus addirittura lui aveva due cavalli che qui a una scuderia qui vicino qui a Friuli pochi chilometri da casa mia che lui veniva a visitare ogni weekend prima che diventavo l'Amadeus che conosciamo adesso e ci conosciamo molto molto bene e purtroppo non mi ha invitato a Sanremo ma cattivo Amadeus dai non è mai troppo tardi non è mai troppo tardi io sinceramente spero di vederti sul palco di Sanremo sì sì io sono sempre disponibile però io non vado lì a pregare portami a Sanremo ti prego no per carità se mi vogliono io sono disponibile ce l'ho anche due o tre cose molto molto interessanti che possiamo anche presentare sono cose in pentola che già pronto qualcosa bolle in pentola esatto allora io direi che adesso possiamo ascoltarci Olivia Newton-Jones e John Travolta bellissimo nel pezzo fumoso di Gris e ci rivediamo tra pochissimo Siamo giunti al termine Mal o Paul come ti chiamo? Ah anche Giovanni se preferisci Giovanni no no va bene quello che ti avviene più spontaneo quello che ti vieni più facile per me è Mal infatti mia mamma qualche volta mi chiamavo Mal perché ero più usato cioè Paul era il mio nome vero però tutti mi chiamano Mal allora ormai mi sono abituato detto tra noi come ti sembra sia andata questa intervista? no va bene noi abbiamo scherzato tu queste domande mi hai fatto anche prima io ho detto ma una cosa pazzesca una cosa tristissima invece Davide mi sono diventito moltissimo mi sono diventito veramente tanto secondo me ho perso due chili oggi no no scherzo hai ragione per cui per farti ritornare qua ancora un'altra volta sì perché ho altri chili da perdere no veramente a parte di scherzi è stata un'intervista sei bravissimo grazie grazie io ho fatto tante papere oggi speriamo che si capisci quello che intendevo dire perché dopo tanti anni ancora mi trovo qualche volta nei guai quando devo cercare il modo di dire le certe cose però queste queste sono io non lo faccio non lo faccio a posto ecco sono proprio negato se vogliamo dire molto bene allora ti ringrazio veramente di cuore molto bene che sono negato no 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 che sei negato no dai mi ha fatto piacere e mi auguro di averti qui ancora magari magari più avanti cerchiamo di capire il male al di fuori della musica andiamo a scavare nella tua vita privata sì 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 no vedi che cambi subito no no perché bisogna anche io sono felicemente adesso con mia moglie Renata e due figli bellissimi poi ti mando le foto di loro perché sono molto molto belle io cosa faccio adesso gioco a golf quando non ho tempo da perdere quando non sto in giro facendo queste interviste vado sul campo di golf e gioco a golf sono presidente dei cantanti musicisti golfisti se c'è qualche golfista lì trovami sull'internet chiamami e finirei a fare le gare con me mi organizzo in tutta Italia siamo siamo forti io e mio figlio siamo molto forti a giocare a golf è un invito anche per me? no no ti ho invitato tante volte tu sei troppo pigro un po' guardi golf è un sport eccezionale io ho cominciato a 66 anni no 65 anni mi sono pentito talmente tanto che non ho cominciato prima perché quando tu prendi il bastone in mano per la prima volta è come un colpo di fulmine cioè è un amore a prima vista è successo a me ho detto porca miseria ma cosa ho mancato in questi anni oh che bello questo sport perché è bellissimo perché non hai bisogno di avversare tu avversari è ti stesso o il campo tu giochi per fare va bene io non posso raccontarti tutto guardi il golf è stupendo bene grazie mille Mal e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Addetto tra noi ciao ciao il pomeriggio su Birichina TV è detto tra noi detto tra noi l'intervista del giorno seguici sui canali del digitale terrestre di Birichina TV sui canali sui canali sui canali